allora c'è un po' di confusione qua vicino ma devo approfittare dei tempi che trovo per fare anche questi piccoli video perché sennò non riesco a farli e so che a qualcuno gli piace che insomma gli mando dei saluti comunque stanotte ho fatto due sogni ma quello che mi interessa di più è sintetizzando e sarebbe l'incontro ravvicinato con esseri di altri mondi erano due e se non sbaglio pleiadiani ma però i casi sono due eccolo qua ho visto che la videocamera è qua il sensore bene allora i casi sono due allora o io sono paranoico oppure può essere che fra due tre mesi viene arriva il disco volante e vengono a prelevarmi e magari mi portano via e cioè magari vi fanno anche un piacere no cioè potrebbe essere possibile non lo so dopo staremo a vedere nei prossimi tempi cosa succede tanto tanto vi ho fatto compagnia anche oggi no